Toto vuole prolungare l'affidamento della concessione per le autostrade A24 e A25 per altri 20 anni, spostando la scadenza dal 2030 al 2050, spendendo 3 miliardi 140 milioni di euro, di cui 2 miliardi pubblici a fondo perduto. Così le associazioni Forum H2O, Nuovo Senso Civico e SOA, che hanno divulgato la proposta di nuovo piano economico finanziario depositata al Ministero delle Infrastrutture dall'attuale gestore strada dei parchi del gruppo Toto. Il documento inedito è stato ottenuto attraverso un accesso agli atti dello scorso 11 maggio, condito da un confronto durissimo con ricorsi e di fide nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e la stessa società strada dei parchi che si era opposta. Nel documento sono individuati gli investimenti necessari secondo strada dei parchi, 1 miliardo 623 milioni per i viadotti partendo da quelli più a rischio, 375 milioni per le pile di viadotti, 633 milioni per le gallerie. Il resto su altri interventi come l'antiscalinamento già in corso per la manutenzione ordinaria poi sarebbero destinati 32 milioni ogni anno rispetto ai 25 attuali. Per le associazioni a parte l'evidente irricevibilità di questa proposta in questa fase è impensabile discutere del nuovo piano economico. In tutto questo poi però vuole un aumento tariffario per ogni anno del 3,34% cioè prende ogni tre anni 10% in più del pedaggio. È una proposta a nostro avviso irricevibile, anche incredibile. Noi chiediamo al Ministro Toninelli di intanto pubblicare tutti i dati. Non è possibile centelinare i documenti. Noi vogliamo leggere perché si tratta del futuro dell'autostrada usata da milioni di cittadini sostanzialmente nei prossimi decenni. Dall'altro lato noi riteniamo che non si possa parlare di questo piano economico finanziario senza tracciare una linea chiara su quello che è avvenuto finora nella gestione dell'autostrada visto che i viadotti sono tutti degradati e vorremmo capire quali spese sono state fatte in questi anni di manutenzione ordinaria che sicuramente è mancata.